L'Avellino si è ritrovata ieri pomeriggio al Partegno Lombardi dopo la vittoria. Sul Potenza i calciatori che hanno giocato hanno svolto un leggero lavoro defaticante, gli altri disponibili hanno svolto lavoro atletico e tecnico. Gli infortunati continuano il loro programma di recupero. Per Claudio Micoschi la lesione di primo grado al retto femorale è clinicamente guarita. Il calciatore sta svolgendo un programma di riatrioletizzazione. Buone notizie anche per Gennaro Scognamiglio. La forte distorsione alla caviglia con interessamento di un legamento è superata. Lo stesso programma di riatrioletizzazione lo sta svolgendo anche l'ex Juve Stabia. Apptese invece per le condizioni di Canutè, per lui in elongazione all'aduttore della coscia destra. In questi giorni si sta sottoponendo a cure fisioterapiche e molto probabilmente non ci sarà. Contro il Catanzaro giovedì sera assente quasi certamente anche Antonio Di Gaudio, per lui infiammazione all'aduttore della coscia destra. E si sta sottoponendo ad un programma specifico di terapie ma è in via di guarigione. Ancora febbre invece per Vincenzo Plescia, l'attaccante alle prese con un virus che lo terrà lontano dal campo ancora per qualche giorno. Insomma contro il Catanzaro giovedì sera si rivedrà praticamente lo stesso Avellino vittorioso contro il Potenza, con la squadra che ha ritrovato il sorriso e di tre punti. Sarà un big match che la dirà lunga sulla reale svolta in casa Avellino, ma dall'altra parte ci sarà una formazione calabrese ferita e fischiata dai propri tifosi dopo il pareggio in casa contro il Catania. Grazie a tutti.